E' con grande piacere, veramente grande piacere che Prisma apre la nuova serie con il primo ospite che è Fabrizio De Andrè. Fabrizio De Andrè di cui esce proprio in questi giorni, nella prossima settimana uscirà il nuovo disco che esce dopo sei anni, un disco che si intitola Nuvola, Nuvola e ci permettiamo di dire un disco bellissimo, un autentico capolavoro. Questo disco ha una caratteristica particolare, sono otto canzoni e sono due suoni cantati in napoletano, due in genovese, uno in sardo e due in italiano. Hai scelto vari dialetti, come mai? Perché il disco, oltre che fisicamente, anche concettualmente, è diviso in due parti distinte anche se complementari. Alla prima parte appartengono personaggi che hanno a che fare col mondo del potere o che sono personaggi del potere, quindi mi è sembrato naturale farli esprimere in una lingua ufficiale, ufficializzata, quindi l'italiano, anche se uno di loro per esigenza di copione ha un forte accento napoletano. Nella seconda parte invece i protagonisti sono i figli del popolo, cioè quelli che il potere lo subiscono e fanno una vita completamente diversa, una vita che scorre parallela a quella dei potenti, senza incrociarsi mai o quasi mai. E quindi anche per sottolineare questa diversità, ho pensato di far usare a questi personaggi del popolo il loro linguaggio di origine, questi loro linguaggi di origine che in effetti sono ancora molto diffusi fortunatamente in Italia. Qual è lo spirito che lega tutto il disco? Il disco si chiama Le nuvole e sia il titolo che la chiave di lettura sono stati presi a prestito dalla omonima commedia di Aristofane. Queste nuvole sono da intendersi come quei personaggi ingombranti e incombenti sulla nostra vita economica, politica e sociale, il cui ruolo fondamentale sembra quello di mettersi fra noi e il cielo per nasconderci la luce del sole, come fanno quelle nuvole che vanno e vengono senza darci neanche il conforto di una goccia di pioggia. Sotto questo via vai di cirri, di lembi, di cumuli, si muove il popolo che per quanto gli è ancora concesso continua a farsi i fatti suoi, che però non dimostra una grande vocazione ormai alla protesta purtroppo. Perché sei anni di silenzio? Sono molti motivi che ti fanno fare o che non ti fanno fare qualcosa. In questo caso io credo che il motivo fondamentale sia da ricercarsi nel bisogno che io ho sentito di chiacchierare, di osservare, di leggere come una persona normale e quindi senza l'attenzione di chi osserva, di chi legge, di chi vive in funzione di quello che scriverà o che racconterà. Poi mi pare due anni circa, due anni fa, tutti questi dati evidentemente assimilati dalla memoria hanno cominciato ad affiorare e un po' per abitudine, un po' anche per necessità, ho cominciato ad assemblarli, a ordinarli, per finire con lucidarli, quindi usando tutti quegli artifici che ogni buon artigiano usa per rendere appetibile al pubblico il proprio prodotto. E così è nato questo nuovo piccolo amatissimo mostro. Benissimo, amatissimo mostro che amiamo anche noi moltissimo. Dico piccolo anche perché le case discografiche di solito tentano di rubartelo settimino. Benissimo, grazie Fabrizio D'Andrea e soprattutto lo ringraziamo anche perché non frequenta abitualmente gli studi televisivi e ha accettato di venire qui a Prisma. Grazie.